ciao a tutti ragazzi scusate per l'altra volta se ho detto un sacco di parolacci contro copyright però mi rompevano le palle ogni volta c'è mi rompono sempre le palle ogni volta che posto un video mi dicono copyright invalid request e io mi sono veramente rotto le palle ho messo le parole sopra ho scritto fanculo copyright di merda robe vari e lo so ragazzi però purtroppo mi rompono le palle perché ti fanno iscrivere apposta c'è ti vogliono far iscrivere alle loro partnership che io non sono d'accordo quindi non ho nessuna partnership per il momento poi magari ne trovo una che mi trovo bene però io adesso non la voglio e quindi niente allora tanto pensiamo qui scusate sono da farlo visto gioco poco non sono capace allora seleziona invio visuale cappellini cappellini dritti cappellini da rovescio vediamo un po' seleziona ma questo è forte lasciamo questo ok no lascia ok indossi già questo articolo ok indietro esc e ho capo per indiretti e un po' come sono ah no sono quelli di prima capo indiretti è ok mala esc felpe invio ma questa forte vediamo un po questa metto cura questa mente bella vediamo un po questa felpa grigia non abbiamo già visto allora vediamo un po giacchi giacca per l'aspetto giacca bianca no no pantaloni vediamo un po cosa c'è allora tutta la gente otteniamoci questo ok scarpe vediamo un po queste non queste ma teniamoci queste dai fanno pandan col verde diamo un po le camicie allora quel bianco sporco scacchino fa schifo solo a blu ma si teniamo stavo blu da allora pantaloncini è un po ma no pantaloncini fa schifo no pantaloncini no vediamo un po magliette eh maglietta vediamo un po più bella bianca vediamo un po indietro canotti no canotti no ma da marro se t'ammarro veramente la parte superiore a completi aspetta un po c'è il completo più elegante giacchiera completo ho vestiti completi di un po nessun articolo bene prima io voglio una bella giacca niente cravate niente c'è un bel lino qua giubbotti casual vediamo un po c'è un cazzo non c'è niente occhiali ce ne saranno eh forse oh questi qua non li prendo ok vediamo un po copri capo copri capo il superiore ok allora poi ci teniamo un uterazio tenendo premuto m si ma un po troppi tasti qua eh e per salvare una partita ok salviamo una partita si dove cacchio vai oh ciccio bisogna andare un po in giro a far casino qui eh salva la partita seleziona eh muoviti muoviti che voglio andare un po in giro a sfracellare un po con l'auto eh scusate oh cacchio devo tornare un po in giro a sfracellare oh cacchio devo tornare un po con l'auto oh cacchio devo tornare indietro cos'era la F ok dai andiamo un po in giro dai oh è bene abbassarti eh oh uff mago levati dalle palle andiamo un po in giro un po a sfracellare io qui c'era la nebbia che cacchio è sta ma levati oh dai lasciatemi un po andare in giro voglio un po non so che cacchio devo fare però io voglio andare in giro madonna qui non c'è nessuno madonna maronna benedetto boom adesso arriva la polizia sicuro madonna vado madonna madonna vado ma qui c'è casa mia no? ok io però devo andare... c'è una cosa di là... aspetta un attimo... faccio il giro... ho visto qualcosa... allora qui ho visto che c'era qualcosa... sulla destra... vediamo un pò... ho visto che c'era qualcosa... non so se mi farà andare qua... car wash... ecco cosa devo fare... vediamo un pò car wash... ci capiscono a cipo io qua ragazzi... allora... tanto stiriamo sto qua che intanto mi sa se voglio... car wash... vediamo un pò staccato di auto... non è neanche sporchissimo però... allora... vediamo un pò cosa devo fare... spero che il video non me lo... non me lo bannano... non me lo... mi rompo le palle... per fare qui dei copyright... se no mi tocca fare come un'altra volta... e fare copierà di merda... copierà di merda... tutto il video... tutta la durata del video... qui non ce lo voglio nemmeno... allora... io ho visto l'altro... prima... che c'era l'affare con il tacco... ci sarà qualcosa di spogliarello... qualcosa... vediamo un pò... grazie... grazie... grazie...